Buongiorno Maria e grazie mille per questa intervista. Correggimi se sbaglio, sei stata Dean della Facoltà di International Liberal Heart da aprile 2013. In realtà abbiamo ammesso il primo gruppo di studenti in aprile 2014. Abbiamo accettato 80 studenti che studiano in quello che chiamiamo All English Curriculum, ovvero studiano interamente in inglese. Inoltre ha avuto un'esperienza come trustee, come supervisore delle decisioni accademiche più importanti all'Università Soc americana. Per quanto tempo? Beh, dalla sua fondazione, da quando l'Università Soc americana ha aperto le sue porte, ovvero dal 2001. Ora sono più di 13 anni. Fantastico. E inoltre hai una solida esperienza come presentatrice a conferenze internazionali. Di cosa si tratta? Ho voluto far sentire la mia voce su temi come cultura, il significato di leadership ed eccellenza. Che dire, una grande esperienza nel settore dell'educazione? Possiamo partire con la prima domanda allora. La Facoltà di International Liberal Heart è una grande sfida ed è stata inaugurata recentemente. Quali sono le esperienze che vuoi condividere con gli educatori italiani? La cosa più importante che voglio condividere con te è che la nostra missione è far crescere la prossima generazione di leader globali. E come facciamo questo? Come possiamo trasmettere ai nostri studenti un senso di missione così che possano creare valori in questioni cruciali per l'umanità? Queste sono domande fondamentali, davvero interessante. Inoltre tutte le classi della Facoltà di International Liberal Heart vengono insegnate in inglese, una lingua globale. Esatto, tutte le classi sono insegnate in inglese. Tutti i nostri studenti, cosa unica rispetto ad altre università giapponesi, devono recarsi per un anno intero a studiare la lingua inglese all'estero. Sono dell'opinione che il processo di apprendimento deve avvenire dentro e fuori le classi. Il nostro mestiere è facilitare l'apprendimento. Il nostro scopo è, ed è sempre stato, creare una comunità dove gli studenti imparano vivendo. Davvero interessante. Maria, questa è l'Università Soca e il nome Soca ha un significato profondo. Che cosa significa educazione Soca per te? Perché l'Università Soca e la Facoltà di International Liberal Heart si differenziano da altri istituti o programmi accademici? Si tratta di creazione del valore, ma il cuore della questione è come mettere in pratica la teoria della creazione del valore quando si lavora con gli studenti. Cosa succede nelle classi? Cosa accade nella relazione tra studenti e professori? Per me Soca vuol dire creazione del valore, ovvero scoprire il vero potenziale che ogni studente possiede. Questo è ciò che il dottore Chieda ci chiede. Il motto dell'Università Soca è Discover Your Potential. Scopri il tuo potenziale. E prendiamo questo motto seriamente. Ogni studente ha un potenziale incredibile. E il lavoro dell'insegnante è scoprirlo e farlo emergere così che gli studenti possano scoprire qual è il loro futuro contributo nel mondo. Maria, tu sei la preside della Facoltà di International Liberal Heart, ma sei anche attiva come insegnante. Qual è la tua filosofia educativa? Ho avuto il grande piacere e privilegio di insegnare Humanistic Education lo scorso semestre. Il prossimo semestre insegnerò Soca Education. Per me educare significa essere un facilitatore. Questo è il mestiere dell'insegnante. Si tratta di due punti fondamentali. Facilitare il processo di apprendimento e aiutare gli studenti a scoprire la gioia di imparare così che possano diventare ricercatori di conoscenza per tutta la vita. Grazie mille, Maria. Raccontami un po' della tua esperienza all'Università Soca americana. Cosa accomuna la Soca University giapponese e la Soca University americana? Sono in un certo senso due università sorelle. Hanno sicuramente una connessione profonda. Certamente il fondatore chieda è la connessione tra le due università. I principi fondatori sono leggermente diversi tra le due università. Ma alla fine si tratta di supportare gli studenti a contribuire alla società. Questo è il punto cruciale che accomuna Soca University e Soca University of America. Si tratta di creare un'atmosfera di insegnamento che supporti gli studenti nel processo di apprendimento. Credo che le persone più importanti in una università non sono né il preside, né i membri del direttorato e né i professori. Le persone più importanti in una università sono gli studenti. Questa è Soca Education. Fantastico. E questo ci porta al concetto di humanistic leadership che tu condividi in conferenze e presentazioni accademiche. Cosa significa humanistic leadership? Il concetto sembra riferirsi allo sviluppare leaders di umanità. Il mondo ha bisogno di leaders. Il mondo ha bisogno di leaders che guidino la società. Per me il concetto di humanistic leadership si basa su tre principi. Primo, compassione. Secondo, saggezza. E terzo, coraggio. Un leader è una persona capace di fare propri questi tre principi e sinceramente condividerli con coloro con cui lavora. Un leader rispetta ogni essere umano e allo stesso tempo ha una visione che permette ad altri di seguire. Grazie mille, Maria. Prima di concludere l'intervista, con un messaggio agli educatori italiani, lasciami condividere un'ultima riflessione. In Italia non abbiamo ancora scuole SOCA. Tu hai avuto un'esperienza importante alla SOCA University americana sin dalla sua fondazione. Che tipo di sforzi hai fatto insieme agli altri membri dello staff a quel tempo, nel 2001? Che tipo di determinazione è necessaria per contribuire allo sviluppo di una scuola o università SOCA? Partiamo dal presupposto che ogni insegnante è un educatore SOCA. Ogni insegnante può essere un educatore SOCA. Non è sempre necessaria una scuola o un'università fondata da Esako Ikeda. Ogni insegnante ha l'abilità di vivere e respirare SOCA Education. Fondamentalmente si tratta di credere e rispettare il potenziale incredibile di ogni studente. Però sono molto felice di sapere che gli educatori italiani stanno approfondendo le tradizioni dell'educazione SOCA con il cuore. E se possono contribuire con la loro saggezza, coraggio e compassione, allora naturalmente contribuiranno anche alla creazione della prossima generazione di leaders. Ti sei riferita ad insegnare col cuore SOCA, come veri educatori SOCA. Ma quando si tratta di fondare una scuola SOCA, cosa accade? Sono sicuro che quando eri negli Stati Uniti, durante la fondazione dell'Università SOCA americana, nel 2001, hai incontrato delle sfide pratiche. Per esempio, come insegnare agli studenti o come organizzare e coordinare le classi. Certo, abbiamo incontrato tutte queste sfide, ma ciò che ci ha incoraggiato sono state le parole del fondatore Daisaku Ikeda. Ikeda ha parlato, anche in tempi recenti, di passione. Dottore Ikeda ha indicato che la parola passione deriva dal latino lotta, lottare. Ikeda dice che la vera passione è quando sei disponibile a lottare per superare qualsiasi ostacolo e quando hai il coraggio di affrontare ogni sfida. Quindi penso che sia in SOCA University, sia alla SOCA University americana, i nostri insegnanti affrontano sfide, ma con la compassione ad educare e seguendo le parole del fondatore, Dottore Ikeda, possiamo superare ogni sfida, diventare vittoriosi e realizzare la nostra missione come educatori. Fantastico, grazie mille Maria. Ora un messaggio agli educatori italiani. Ciao a tutti e scusatemi se non sono lì con voi, ma vi auguro tutto il meglio. Fantastico.